Allora, salva l'analisi dell'automissione, ok? Io, rifacendo il disegno così, la cosa è più chiara, abbiamo un certo nostro oggetto, un conto che al tempo T0 si trova nella configurazione C0 e al tempo attuale T si trova in una nuova configurazione che abbiamo chiamato C. Poi, se prendiamo un punto materiale, questo punto materiale nella configurazione C0 occupava una certa posizione che era individuata da un vettore che abbiamo chiamato X, bene? Lo stesso punto materiale, al tempo T, sarà in una nuova posizione che è individuata da un vettore che chiamiamo Y. E abbiamo detto che c'è appunto una, questo vettore Y non è altro che una funzione che abbiamo chiamata funzione cambiamento di configurazione e che naturalmente dipende da X. Bene? Quindi noi sappiamo che Y sarà uguale a Y di X e T. Bene? In realtà abbiamo anche detto che è possibile, almeno localmente, invertire questa funzione e trovare una funzione, come dire, inversa a questa, supponiamo di poterlo fare, non solo localmente, ma a livello globale e quindi possiamo scrivere una funzione X è uguale a X di Y di Y, che è la funzione, come dire, inversa di quella. Vediamo come funzionano queste due funzioni. E la prima ci dice, se è nella configurazione iniziale, bene, scegli un certo punto, dove finisce questo punto, in quale posizione andrà a finire questo punto. Questo ci descrive questa funzione, va bene? Qual è la posizione attuale di un vettore che all'inizio dei tempi occupava una posizione X, va bene? Allora, l'altra funzione, cioè questa, invece, cosa dice? Dice, stai in una certa posizione, questa, e vuoi sapere qual è il punto che in quell'istante il tempo sta passando per quella configurazione, per quella posizione. E lo trovi. E' il punto che all'inizio dei tempi era individuato dal vettore X. Vi sono spiegato? Allora, questi due modi di rappresentare il cambiamento di configurazione si chiamano uno materiale e l'altro spaziale. Quello materiale viene anche spesso, come dire, denotato come sistema lagrangiano e quello spaziale, invece, come euleriano. Il modo di rappresentare il cambiamento di configurazione di tipo materiale, ovvero lagrangiano, fu pensato, fu proposto da Eulero. Al contrario, il modo di rappresentare la deformazione con il metodo spaziale e oleriano, fu proposto, no, da D'Alembert. Allora, anche su questo voglio spendere qualche parola in maniera tale che sia chiaro quello che stiamo facendo. Credo che su questo modo di rappresentare il cambiamento di configurazione abbia... Avete capito? Cioè, io ho questo corpo, prendo un punto di questo corpo, questo corpo si trova in questa configurazione al tempo zero, al tempo t si troverà in questa configurazione dove magari sarà anche stato deformata e io descrivo durante il tempo il modo di un certo punto, eh? Questo è il modo di un certo punto, ok? Questo qui, vuol dire, la rappresentazione di tipo spaziale, invece è un po' diversa. Per cercare di farla capire, non intendo io faccio così, immaginiamo che andiamo tutti al fiume di Algari, va bene? E guardiamo, come una specie di macchina fotografica, inquadriamo una parte del letto del fiume di Algari, una parte piccola del fiume di Algari, ma a un certo punto, su questa parte del letto del fiume di Algari, vediamo che sta passando, diciamo così, un sughero, una cosa che galleggia, diciamo così. E quindi, in quella posizione y, a un certo tempo t, passa un oggetto, che è il mio punto materiale, il sughero. E mi domando, ma questo sughero, al tempo t0, dove stava? Chiaro? Allora, questa rappresentazione qua, mi risponde a questa domanda. Mi dice, dove stava il sughero, che al tempo t sta passando per una certa posizione y. Chiaro? Questo è. Quindi, non seguiamo il tracciato del sughero durante il tempo, ma ci domandiamo da dove sta venendo. Punto per punto. Ok? Allora, questi due modi di, come dire, descrivere il cambiamento di forma, di configurazione dell'oggetto, si possono utilizzare ovviamente tutti. Diciamo, normalmente, il primo modo è quello che viene utilizzato nella meccanica dei solidi. Il secondo, quello dei fluidi. Bene. Quindi, noi avremo ovviamente per lo più a che fare con questo modo di descrivere il cambiamento di configurazione. Cioè, con un sistema di tipo materiale euleniano. Va bene? Ok. Va bene. Allora, scelto che sia il modo in cui vogliamo descrivere il nostro cambiamento di configurazione, entriamo in qualche dettaglio in più. Va bene? E in qualche dettaglio in più in cui vedremo più precisamente, come dire, l'utilizzare, l'idea che il cambiamento della forma del nostro oggetto, cioè la deformazione, è legata alla variazione di distanza tra i punti. Ok? Quello che avevamo detto ad inizio che è il modello di coscienza. Va bene? Allora, a questo punto io francello questo e mi tengo le due timure. Allora, immaginiamo che il vettore X ci individua un punto materiale che si trovi in una certa posizione P0. Eccolo qua. Bene. In questo punto materiale abbiamo detto che al tempo T cambierà posizione e occuperà, diciamo, una nuova posizione dello spazio che sarà P0. Ok? Adesso immaginiamo di prendere un intorno del punto P0. Ovviamente io l'intorno devo pensare matematicamente, diciamo, una sfera piccola, di raggio piccolo, ma per fare il disegno devo prendere in qualche modo, diciamo, un raggio piuttosto significativo, no? Non si vede niente. E immaginiamo di prendere un punto che appartiene a questo intorno di P0. Bene. Questo punto lo chiamo Q0. Bene. Ovviamente sarà individuato da un altro vettore posizione, questo punto Q0, che io non voglio descrivere sulla lavagna, però quello che riporto sulla lavagna è il vettore tra Q0 e P0. Bene. Questo vettore qui. Questo vettore qui sarebbe, in qualche modo, la differenza tra il vettore posizione Q0 e il vettore posizione P0. Bene. È una differenza di due vettori posizioni. Poiché questa è una differenza di due vettori posizioni, di due punti che si trovano all'intorno, ovviamente sarà una quantità molto piccola. Bene. Questa quantità la chiamo dx, è una variazione di x. x è la posizione del punto P0, dx è la variazione della posizione del punto P0, che ci porta in un altro punto, ovviamente vicino al P0. Va bene? Ci siamo? Come abbiamo già detto prima, il punto P0 si è trasformato in un punto P. Ok? Analogamente il punto Q0 si sarà trasformato in un punto Q. Bene. E invocando una dei requisiti delle funzioni di trasformazione, di cambiamento di configurazione Y, che deve accadere che se Q0 apparteneva all'intorno di P0, Q deve appartenere all'intorno di P. Bene. Quindi anche questa distanza deve essere la trasformata di questa distanza qua. Di Y. E ovviamente noi possiamo introdurre lo spostamento del punto P0, Q di P0, e lo spostamento del punto Q0, Q di Q0. Va bene? Possiamo calcolarci questo spostamento dal punto di vista puramente geometrico, vedendo proprio i vettori che abbiamo disegnato alla lavagna. Va bene? Quindi abbiamo che U di Q0 è uguale, cioè questo vettore è uguale a la somma di questo vettore più questo vettore, meno questo vettore qua. Va bene? Ovviamente questo lo potete vedere molto facilmente dicendo per andare da questo punto a questo punto, posso fare questo più questo, va bene? Oppure questo più questo. D'accordo? E quindi questo vettore lo scrivo come la somma di questo più questo meno il dx. Quindi lo scrivo come U di P0 più dy meno dy. Allora, qui possiamo fare immediatamente dei passaggi. Questo U di P0 ce lo teniamo così, U di P0, più dy. Allora, guardate, dy era, dal punto di vista matematico, l'abbiamo già incontrato, era il differenziale della funzione y. L'abbiamo già incontrato, il differenziale. E questo differenziale a che cosa è uguale? È uguale a un gradiente per l'incremento. Ok? Quindi il gradiente, il gradiente di y, è quello che abbiamo chiamato f, f maiuscola. Ok? Quindi questo dy, altro non è che f dx, meno dx, ovviamente. Ok? In altre parole, ancora, lo possiamo scrivere come U di P0 più f meno l'identità, tutto quanto applicato a dx. Ok? Però noi, partendo sempre da questa relazione, potevamo anche scrivere, seguire un percorso un po' diverso, va bene? Analogo, ma un po' diverso. Perché, partendo da questa relazione, potevamo scrivere, adesso continuo da questa parte, bene? Potevamo scriverla come U, sempre di P0, meno, meno, più, scusatemi, d dy meno x. Perché? Perché l'operatore differenziale è un operatore lineare. Quindi, la differenza dei differenziali è uguale al differenziale della differenza. Ci siamo? La derivata è un operatore lineare. Ci siamo? Ma y meno x, l'abbiamo già introdotta prima, che cos'è? È lo spostamento. Quindi, questa cosa, altro non è che U di P0 più il VU, cioè il differenziale della funzione spostamento. Ancora una volta, quando abbiamo un differenziale, noi lo possiamo sempre vedere come il gradiente applicato all'incremento. E questa cosa, la scriviamo così, è uguale a U di P0 più il gradiente di U è questo, va bene? Per dx. Normalmente, il gradiente di U si indica con H, con il simbolo H. Quindi questa qua diventa U di P0 più H dx. Bene. Da tutto questo, se noi guardiamo quello che abbiamo ricavato seguendo questi passaggi, e quello che abbiamo ricavato seguendo questi altri passaggi, ovviamente ricaviamo che F meno I ed H ovviamente sono la stessa cosa. Quindi possiamo anche dire che H è uguale a F meno I. Va bene? D'accordo? Come prima abbiamo scritto nelle componenti di una matrice il valore della F? Facciamo la stessa cosa per l'H. Cioè, abbiamo un sistema di riferimento e quindi abbiamo una matrice, va bene? Prendiamo una matrice e vediamo come è fatta questa matrice. Va bene? Allora, H come sarà fatta? Di nuovo H. Che cosa sarà? È inutile che ve lo dico io, l'avete capito? Perché è H, altro non è che il gradiente del vettore spostamenti. Il vettore spostamenti è un vettore di tre componenti. Come al solito, gli spostamenti dipendono dalle tre coordinate x1x2x3 quindi quando andrò a fare il gradiente otterrò una matrice 3x3. Va bene? La prima riga contiene le derivate parziali della prima componente di U quindi la prima riga contiene U con 1 derivato rispetto a 1 U con 1 derivato rispetto a 2 U con 1 derivato rispetto a 3. Va bene? Le tre derivate parziali della prima componente di U la seconda riga contiene ovviamente le tre derivate parziali della seconda componente di U e così via. Scusatemi io vi voglio far capire come funzionano veramente le cose e vi voglio fare un passaggetto assolutamente banale però ve lo voglio comunque fare perché quando uno fa queste operazioni tra vettori matrici è facile che si può poi confondere e questo ovviamente non deve essere possibile quindi per esempio cerchiamo di capire quando io intendo prendiamo questa questa formula U di Q0 uguale a U di più di P0 più H dx scriviamola proprio completamente nelle sue componenti allora U è un vettore di tre componenti cominciamo dalla prima componente ok quindi io scrivo U con 1 che è la prima componente di Q0 è uguale adesso dall'i sopra vado a finire qui a U con 1 di P0 va bene U con 1 di P0 più e ovviamente a questo punto devo mettere la prima componente di questo vettore qua la vedete H è una matrice dx è un vettore no applicando H a dx ottengo un vettore la prima componente di questo vettore uno deve avere un po' di primistichezza con queste operazioni quindi facciamole va bene allora facciamo se vogliamo direttamente questa operazione guardate perché io ho che H è questo dx è un vettore di componenti dx1 dx2 dx3 quando io faccio H dx devo prendere questa matrice e moltiplicarla per questo vettore e quando si fa questa operazione si fa sempre riga per colonna ok quindi se io voglio la prima componente del vettore H dx di tutto il vettore H dx risultato di questa operazione prendo la prima riga della colonna se voglio la seconda componente di questo vettore seconda riga colonna terza componente terza riga quindi noi stiamo nella prima perché era 1 con 1 quindi devo prendere la prima riga e moltiplicarla per questa colonna e come ci viene? è semplice adesso lo andiamo a scrivere ma facciamoci prima il conto mentalmente devo fare questo per questo più questo per questo più questo per questo questo è tutto bene allora facciamolo quindi questo qua ci verrà u con 1 derivato rispetto a 1 dx1 più u con 1 derivato rispetto a 2 dx2 più u con 1 derivato rispetto a 3 dx3 va bene? riga colonna andiamo sulla seconda componente del vettore 1 bene quindi io scrivo u2 sempre di q0 sarà uguale a u2 di p0 più e allora sempre devo guardare la definizione di questa matrice h e la definizione del vettore dx e fare riga per colonna prendendo a questo punto la seconda componente quindi devo prendere la seconda riga della colonna ok e allora sarà u con 2 derivato rispetto a 1 dx1 più u con 2 derivato rispetto a 2 dx2 u con 2 derivato rispetto a 3 dx2 u con 3 u con 3 di p0 più u con 3 derivato di fetta 1 dx1 u con 3 derivato di fetta 2 dx2 u con 3 derivato di fetta 3 dx3 bene allora su questa operazione voglio fare un ulteriore passato perché poi a un certo punto cercheremo di fare delle operazioni piuttosto rapidamente senza portarci dietro queste formule così grandi e così anche noiose bene? però uno deve pensare quello che sta facendo deve avere l'idea che aprendo le formule che scriveremo in maniera piuttosto contratta che significato hanno qualora le vogliamo espandere bene tutto questo lo possiamo scrivere così se volete u con 1 di femp0 più qua c'è una guardate c'è una sommatoria che è una sommatoria di trentenze vedete? e dove guardate qua c'è 1 qua c'è 1 qua c'è 2 qua c'è 2 qua c'è 3 qua c'è 3 ok? quindi questa cosa la potete scrivere così u con 1,j dxj e davanti a questo dovete immaginare una sommatoria per j che va da 1 a 3 ok? allora sempre per risparmiare e non rendere il formule troppo complicate ogni volta che c'è una sommatoria noi non la mettiamo però quando ci stanno gli indici ripetuti quando ci stanno questi indi vedete che j sta 2 volte è ripetuto si intende sommato nel suo raggio 3 1 3 bene questa è quella che viene chiamata la nozione di Einstein gli indici ripetuti si intendono sommati ovviamente anche le altre componenti le posso scrivere utilizzando lo stesso modo come dire contratto di guardare queste formule cioè u con 2 virgola j dxj e poi u con 3 0 u con 3 virgola j dxj bene ovviamente allora noi possiamo dire ma se vogliamo la generica componente del vettore u a che cosa è uguale? la generica componente cioè l'iesima componente la scriviamo come u con i di q0 altrimenti la u con i di p0 più u con i virgola j dxj questa è una e così noi stiamo riscrivendo avendo fissato un sistema di riferimento in componenti questa espressione qua che invece aveva una tozione tipo assoluta c'è vettoriale matriciale sensoriale va bene? e devo dirvi la verità quando poi uno deve fare veramente i calcoli deve fare il calcolo di una certa cosa e deve andare a finire qui deve farlo ovviamente non gli può bastare quello di scrivere le descrizioni di riferimento va bene? lo vedremo ancora d'accordo? va bene però però ritorniamo un attimo qui però adesso possiamo vedere questa stessa formula appunto con due diciamo così occhi diversi u di più 0 è uguale a questo bene? non ci sono indici una tozione assoluta oppure la u di q0 uguale a quella dove ci sono tutti gli indici che dice quello che effettivamente dobbiamo fare per ottenerla va bene? ok? però in ogni caso che la vogliamo guardare in questo modo o la guardiamo in quell'altro modo da un punto di vista come dire meccanico possiamo capire una cosa che lo spostamento di questo punto qui va bene? c'è dato come somma di uno spostamento di tutto l'intorno va bene? più qualche altra cosa va bene? il primo termine questo qua rappresenta lo spostamento fatemi dire a questo punto rigido dell'intorno cioè io ho un certo intorno del punto p0 subito uno spostamento rigido va bene? d'accordo? e andrà a finire in questa nuova posizione di intorno poi oltre a questo spostamento rigido c'è un'altra parte della formula l'HDX che dovrà contenere tutti i termini che dovranno tener conto dell'eventuale rotazione di questo intorno rigido e anche del cambiamento di forma dell'intorno dell'intorno chiaro? quindi noi possiamo appunto guardare questa formula e interpretarla da un punto di vista meccanica dicendo io ho il mio intorno nella configurazione indeformata subirà prima uno spostamento rigido poi dovrà subire qualche altra cosa e tutto il qualche altra cosa è tutto contenuto in questa parte qua della formula nell'HDX e che cosa ci sarà in tutta quest'altra cosa? ovviamente ci sarà l'effetto di rotazione ancora magari rigida dell'intorno e il cambiamento della forma dell'intorno è chiaro? è il cambiamento di forma dell'intorno quindi se noi vogliamo capire come si sta deformando come sta cambiando la forma tutto il nostro oggetto quello che dobbiamo fare è andare a studiare questo termine qui questo HDX è in HDX che è nascosta dentro il cambiamento della forma dell'oggetto è lì che dobbiamo studiare e capire che sta succedendo vi sono spiegato? bene la prima cosa che possiamo fare è questa grazie a tutti riscriviamo un attimo questa formula sì forse posso anche posso anche in realtà cancellare tutto quello che sta qui tanto quello che ci serve è solo questa formula scherza così se non ci vediamo un po' di stop e appunto voglio rappresentare lo spostamento del punto Q0 in questo modo ok quindi lo riscrivo vicino per comodità e scrivo che U di Q0 è uguale a U di C0 più H di Q0 allora H è il più di spostamento scelto si sia di riferimento abbiamo visto H l'ho cancellata prima l'ho cancellata era scritta qui le componenti di H era una matrice va bene era una matrice che aveva tutte le derivate parziali no va bene bene posso definire la parte simmetrica e la parte enisimmetrica della matrice H come si fa a definire la parte simmetrica e la parte simmetrica si fa così se ho una matrice H voglio la sua parte simmetrica io voglio la parte simmetrica di H altro non è che un mezzo di H più H2 se voglio la parte enisimmetrica si definisce come un mezzo di H meno H2 bene la parte simmetrica la indico con epsilon la parte enisimmetrica la indico con W W con W doppio doppio v v che significa che questa è la parte simmetrica di H che y deve essere simmetrica bene quando è che y è simmetrica quando deve accadere che y è uguale a y trasposto deve accadere questo allora è simmetrica ovvero se vogliamo scriverlo in componenti che y j è uguale ad y j bene che significa invece che H che W sia la parte enisimmetrica di H che significa significa che W è uguale a meno W trasposto ovvero che W i j è uguale a meno W j i bene da un punto di vista proprio grafico rappresentativo una matrice simmetrica quando questo termine è uguale a questo no? e così via tutti i termini fuori diagonale sono uguali nella matrice enisimmetrica accade che questo termine è uguale a meno questo termine qui è l'opposto ok? va bene allora vediamo che effettivamente questa operazione ci garantisca questa proprietà la prima cosa che possiamo fare no? ci siete? cioè che se io faccio un mezzo di H più H trasposto effettivamente diviene una matrice simmetrica cioè se io faccio il trasposto di questa matrice diviene la stessa matrice e questo voglio dire se volete è banale perché io dico facciamo così scrivo qui Y trasposto è uguale a un pezzo di H più H trasposto tutto quanto trasposto ok? ci siete? ed è uguale a un mezzo di H trasposto più H trasposto trasposto il trasposto è un'altra volta H ma ovviamente nell'addizione delle matrici non ha importanza l'ordine e quindi questo è uguale a un mezzo di H più H trasposto e quindi è uguale e quindi voglio dire facendo così abbiamo ottenuto una matrice simmetrica sicuramente ok? vediamo se la seconda è una matrice simmetrica cioè se noi facciamo il trasposto di questo e ne cambiamo il segno ci viene mutato un'altra volta allora facciamolo si vede facilmente che è così meno W trasposto è uguale allora parto naturalmente da questa definizione qua va bene? e faccio un mezzo ci metto il meno davanti quindi qua ci vuole un meno e qua diventa un più va bene? e poi meno H più H trasposto tutto quanto di questo ne faccio il trasposto va bene? e a che cosa sarà uguale? sarà uguale a un mezzo di meno H devo farne il trasposto vedete? più H trasposto trasposto ci restituisce di nuovo l'H e questo è esattamente uguale a un mezzo di H meno H trasposto cioè è esattamente quello che abbiamo definito W ok? ovviamente ancora l'ultima cosa che dobbiamo verificare è che la somma di queste due parti di queste due quantità cioè la parte simmetrica e la parte misimmetrica ci restituisca tutta H no? se io faccio la somma no? se io faccio Epsilon più W doppio cioè la parte simmetrica di H più la parte misimmetrica di H ci restituisce tutta H domanda proviamo vediamo beh va bene ovviamente è abbastanza facile verificarlo perché Epsilon sarà un mezzo di H più H trasposto W è un mezzo di H meno H trasposto e quindi quando andiamo a sommare questi due termini si eliminano la vicenda e qua c'è un mezzo di H più un mezzo di H ci dà tutta l'intera H quindi H va bene va bene sulla base di questa cosa vuol dire che noi possiamo fare così sostituire quella formula di rappresentazione dello spostante dove c'è la H Sostituire al posto dell'H Epsilon più W dove con Epsilon intendiamo la parte simmetrica di H e con W la parte inisimmetrica di H e questo è il mio questo modo di rappresentare il vettore di spostamenti del generico punto dell'intorno è assolutamente generale non abbiamo fatto nessuna ipotesi particolare quindi in ogni caso per volendo possiamo dire lo spostamento di Q0 è dato dallo spostamento di P0 cioè quello che abbiamo descritto il moto rigido dell'intorno più altri due effetti questi due effetti sono definiti da Y e W l'effetto dovuto alla parte simmetrica di H l'effetto dovuto alla parte emisimmetrica di H e ci fermiamo qui e vedremo nel